Assessore, qual è l'importanza di questo evento per la città di Montesilvano? È un evento di assoluta rilevanza all'interno di quello che sarà il cartellone delle manifestazioni sportive che Montesilvano realizzerà per l'estate 2022. Diciamo che apriamo la stagione sportiva con il botto perché la prima edizione dell'Osterario Manotrophy sarà sicuramente un grandissimo successo ed è un piacere per noi poter essere il centro di questo tour abruzzese. Si parla spesso di turismo sportivo e di rilancio dei territori. Penso che manifestazioni come queste siano necessari e indispensabili in questo senso. Sì, i percorsi saranno delineati per tutta la regione Abruzzo. Toccheremo appunto quattro province, 74 comuni e più di 550 chilometri. Il venerdì mattina tutti i partecipanti partiranno, destinazione sud-ovest andremo verso Roio del Sangro che sarà il punto più lontano che raggiungeremo ai confini con il Molise per poi rientrare verso Montesilvano. L'idea di creare questo evento, l'Osterario Manotrophy, è stata un'idea che parte già da qualche anno grazie alla nostra esperienza nell'organizzare dei tour turistici per mini gruppi, 10-15 moto all'interno della regione Abruzzo. La cosa molto importante che ci faceva piacere sottolineare è che è un evento unico nella sua categoria e quello che saranno ben accette anche le famiglie e abbiamo creato per loro dei contenuti insieme a un nostro partner che è la cooperativa Il Bosso per creare appunto delle escursioni all'interno del territorio dell'Abruzzo durante le giornate in cui il proprio compagno o la propria compagna è in giro in moto. È bello sottolineare che ci sarà anche un momento di beneficenza e solidarietà quindi verranno individuate delle associazioni a cui l'associazione Sterrario Umano devolverà una quota per cui c'è tutto, c'è divertimento, c'è sport, c'è turismo, c'è valorizzazione del territorio, c'è solidarietà e non vediamo l'ora quindi che arrivi il 28 di aprile.